Presidente Catone, è il caso di dire che l'aeroporto d'Abruzzo torna all'antico con numeri pre-Covid, un'estate che sta andando a gonfie vele? In questo momento i numeri riscontrano dati incredibilmente positivi, miglioriamo di buone percentuali i dati del 2019, anno maximum di Abruzzo Airport pre-pandemia. Siamo a metà stagione, abbiamo agosto alle porte e dobbiamo mantenere i piedi per terra e i servizi al massimo, ma in questo momento ci possiamo definire molto contenti. I numeri in teoria sono importanti, vediamo tutto il lato positivo svolto finora, soprattutto per quello che è avvenuto in tutta Europa dovuto agli scioperi e alle grandi difficoltà che hanno avuto diversi scale internazionali. Noi ad oggi abbiamo registrato sì alcuni disagi e ce ne scusiamo anche con i passeggeri dovuti ai ritardi, specie nel mese di giugno, ma riscontriamo anche solo quattro cancellazioni nei quattro mesi di Summer 2023. Quali sono state, se lo possiamo già dire oggi, le destinazioni che hanno avuto i maggiori numeri, i maggiori transiti? Devo essere sincero, nelle 19 destinazioni di Abruzzo Airport quasi tutte sono andate molto molto bene e che hanno avuto delle performance migliori rispetto alle annualità precedenti, per cui anche il planning individuato dalla nostra infrastruttura si è dimostrato molto molto vincente. State anche pensando per chiudere, Presidente, all'autunno, all'inverno, alla fine del 2022? Sì, in questo momento ad agosto di norma le infrastrutture aeroportuali, le società di gestione programmano sia la stagione winter che addirittura la summer 2023. Noi abbiamo contatti costanti con i principali vettori low cost, un accordo rafforzato con ITA perché tutt'oggi vantiamo due frequenze quotidiane con Milano Linate che ci consentano attraverso questo link di raggiungere oltre dieci destinazioni in tutta Europa in meno di quattro ore da Pescara per appunto dieci destinazioni europee. Per cui in questo momento siamo al lavoro e saremo al lavoro per tutt'agosto per far sì che il trend positivo non svanisca già da novembre 2023.